Vado a casa. D'accordo. Questo è un gioco del cazzo comunque. Dopotutto, se ci pensi, io userei ancora i tuoi soldi, no? Come hai detto? I tuoi soldi? Oh, beh sì, mi sono rimasti 20.000 dollari da quell'ultima partita in cui ti ho cavalcato. Cercano di mettermi alle strette per tenermi il loro potere. Ma qui non si tratta di un duello, non si tratta di orgoglio o di supremazia. È solo una questione di soldi. Potrei andarmene adesso, pagare Grama e KGB e ridare metà del prestito a Petroski. Sarebbe la cosa più saggia. Lo dicevo a verme, non puoi perdere quello che non metti nel piatto. Giochiamo, ma non puoi neanche vincere. Fish! Raddoppiamo la posta. Se vuoi, non la fissiamo. Va bene. Potrai rifare il piano quando ti pare. So che insieme ti avvido. Dovresti prenderti a schiaffi per giorni. Hai fatto uno sbaglio a non essertene andato quando potevi. Pesima decisione. Però non devi preoccuparti, figliolo. Molto presto la tua sofferenza finirà. Ok. 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 Va bene così. Non va bene così. Il tuo resto. Questa volta passo, Teddy. ho doppio all'asso. È una mano troppo pericolosa. Vado via. Tu hai un due e un quattro e io non gioco contro un punto fatto. Lasci andare una mano così. E ho un piatto che ti farebbe pareggiare i conti. Come cazzo è possibile non giocarla? Non hai più fame? Mister grande figlia di Potana. Avanti, state e dare le carte. La regola è questa. Una volta che hai scoperto il gioco dell'avversario, non devi farlo trasparire. Sono riuscito a capire le mosse di KGB e in un altro momento gli avrei lasciato mangiare biscotti fino alla sua rovina. Ma non ho abbastanza tempo. Mi resta solo fino a domani mattina. Nemmeno Teddy KGB è immune a un po' di nervosismo. Quando è troppo e troppo, Teddy, metti K.O. questo stronzetto. Lui non perde la calma, non perde mai la calma. Questo ragazzo è il sangue di un alligatore nelle vene. Non è facile liberarsi di lui. Io non vado da nessuna parte. Il doppio del piatto. Ci sto. E giro le carte. Parola. Due mila. Ecco, vedo i tuoi duemila, va bene? Non lanciare le fish. Hai speranza di legare, Mike? Meglio che te ne vai, questo non è un piatto che fa per te. E nel mio club io posso lanciare le mie fish facendo tutto il cazzo che mi pare piace. D'accordo. Dico parola, Teddy. Me l'aspettavo. Piovono soldi per giocare e piatto. 4.400, devo vederli o non avrò rispetto per me stesso domani mattina. Io rispetto tutto quello che ti rimarrà ancora domani mattina. Ultima carta scoperta. Parola. Fa molto male, non è vero? Non riesci a credere a quello che è successo. Tutti i tuoi bei sogni. Infranti. La speranza è andata a farsi fottere. Il tuo destino è seduto proprio avanti a te. Quell'asso non ti serve proprio a niente. E io punto tutto. Hai ragione, Teddy, l'asso non mi serve. Avevo già una scala. Frotto, stronzo! Basso e gavno! Bastardo, basta, smetto! Smetti? Ma che cavolo di senso ha smettere? Non puoi, sentiti, Teddy. Niente, niente! Non più! No, non stanotte! Questo figlio di puttana tutte le volte a dire parola, 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 mi ha fatto aboccare! Ti senti soddisfatto adesso, Teddy? Sì, perché se vuoi posso continuare a spellarti. Niente! Niente! Lui mi ha battuto. E onestamente, pagatelo. Pagate a quell'uomo tutta la sua vincita. Pagate a che... Grazie a tutti.